Gioia Sport.com il blog con tutto lo sport della tua città Mister allora si sapeva alla vigilia che con l'Orlandina non sarebbe stata una passeggiata complice anche un gran caldo, terminato questa partita in parità, un tuo commento? Sì, non è assolutamente una partita facile, noi abbiamo trovato di fronte una buona squadra una squadra che si è difesa bene e ripartiva altrettanto bene con dei giocatori abili, con dei giocatori veloci sfruttava le ripartenze e malgrado questo noi li abbiamo contenuti bene e non abbiamo sostanzialmente rischiato delle situazioni particolari Panuccio è stato per gran parte inoperoso però bisogna dire pure che a differenza della settimana scorsa dove ci sono stati tutti quei gol e dove il risultato appunto è stato roccambolesco in questa partita di oggi invece sono venuti a mancare le conclusioni credo sia da una parte che dall'altra noi ci siamo avvicinati in alcune circostanze con Pasquo però ritengo che come squadra che giocava in casa e doveva fare qualcosina in più per cercare di vincere la partita è venuto il risultato del pari e lo accettiamo Si è capito all'inizio l'intento di Raffaele, l'allenatore dell'Orlandina, si è chiuso, l'Orlandina voleva il punto e ci è riuscito Ma ognuno gioca nella maniera in cui ritiene fare un punto, per loro è importante certo ma non si sono lesinati onestamente a ripartire, non è che abbiano solo contenuto hanno sfruttato quello che magari facciamo anche noi quando andiamo fuori cioè giocare di rimessa con delle ripartenze e loro si sono sistemati bene dietro, si sono difesi bene e quindi ci hanno bloccato gli spazi Certo, poi in una giornata così calda, con le temperature così alte, credo che non sia a favore dei giocatori Mister, nel complesso è un punto comunque che muove la classifica salite a quattro dopo due giornate, siete ancora imbattuti tra campionato e Coppa un inizio promettente per la tua squadra? Certo, io penso che all'inizio, prima di partire, nessuno magari avrebbe pensato che potevamo fare due gare di Coppa con due vittorie e con la qualificazione abbiamo fatto tre punti a Vibo dove magari non ci credeva nessuno oggi abbiamo fatto un punto, abbiamo anche mosso la classifica quindi ritengo per il campionato che dobbiamo fare se poi qualcuno pensa che dobbiamo vincere tutte le partite mi pare che sia un pochettino esagerato per quanto ci riguarda Mister, un'ultima battuta a Vibo il pubblico gioiese è stato incredibile, ha sostenuto la squadra dal primo al novantesimo oggi sembrava di stare in teatro forse anche il caldo avrà inciso nella testa dei tifosi sì, malgrado il caldo loro sono stati molto freddi gioiasport.com, il blog con tutto lo sport della tua città grazie a tutti